Buongiorno! Ma sei abbronzatissimo! Buongiorno! Sono ustionato, non abbronzato! Ustionato, mamma mia! 4,55 quindi anche onesto come prezzo. Tieni conto che negli ultimi 5 anni i prezzi sono praticamente aumentati del 30%. Ah ok, quindi era ancora più onesto. Era estremamente onesto, oggi si sta allineando con il mercato. Mangiamo! Buona colazione! Lui è Nicolò di Nico Ica, insieme alla compagna vivono e parlano di Fuerteventura ormai da anni. Io lo ringrazio perché in questo mega video mi ha fatto scoprire tutto quello che c'è da sapere di Fuerteventura. Opportunità, problemi, curiosità, turismo e tutto quello che c'è di sommerso. Ora vamos con una sua piccola presentazione e poi vedrete tutto. Allora, io parto come commerciale in Italia, quindi ho studiato tutt'altro, sono un ragioniere, idem anche mia moglie che ci siamo appunto conosciuti a scuola. Quando ci siamo trasferiti a Fuerteventura l'abbiamo fatto principalmente per amore, quindi non era per venire giù, fatturiamo, disfiamo, lasciamo la buona Lombardia per fare tutt'altro e specialmente molto più in forma tranquilla. È successo esattamente il contrario. È successo che ci siamo ritrovati a lavorare di più che in Italia e questa comunque è una cosa buona perché siamo estremamente giovani. Io ho 30 anni, Ica ne ha 25. Quando ci siamo trasferiti io mi sono andato de alta come autonomo, quindi qui si dice aprire ditta individuale, partita IVA come persona fisica, quindi non come persona giuridica con la SL che al pari di una SRL italiana, come agente di viaggio. Quindi sulla base di quello che era tutto il nostro storico di turisti, quello che abbiamo fatto per anni, dal 2014 al 2017, venendo qua a ciclicamento ogni due o tre mesi abbiamo visto proprio il cambiamento drastico di questa isola, e non solo quest'isola in realtà, tutto l'arcipelago, noi siamo diventati dei tappabuchi su quello che era davvero le mancanze ai nostri occhi come turisti. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo seduti in spiaggia, una delle spiagge più belle in assoluto che secondo noi è l'Escalera, poco sotto è il Cotiglio. E adesso dove siamo? Adesso siamo a Coralejo, siamo esattamente a 35 chilometri da questa spiaggia che mi ha fatto davvero innamorare. Ho detto io qua ci devo venire a vivere. Ok. Ci siamo seduti, abbiamo preso un foglio, carta e penna, abbiamo diviso metà le cose che secondo noi come turisti siamo stati in casa a vacanza, siamo stati in hotel, hotel 4 stelle, ostellini neanche troppo in regola, da una parte si risparmiava, da una parte si pagava tanto, li proviamo tutte, tutte le soluzioni dell'isola da nord a sud. Questo è quello che secondo noi non va, questo secondo noi è quello che va. Quindi andiamo a strutturare un'azienda, che poi comunque è la conduzione familiare, dove andiamo a tappare tutti quei buchi che a nostro occhio non rispecchiano il servizio del 2017 a quel tempo. E così abbiamo cominciato con una casa vacanze. Passo indietro, perché comunque uno non nasce già con i soldi per poter avere una casa vacanze. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo cominciato a strutturare il nostro trasferimento tre anni prima di trasferirci. Nel 2014 la realtà economica dell'isola era estremamente differente da quella di oggi, soprattutto estremamente differente da quella del 2017, che poi è risultato anche essere l'anno più caro degli ultimi dieci anni. Guarda caso l'anno in cui abbiamo comprato noi. Ottimo! Questo chiaramente è la nuvola di Fantozzi. Però va bene, nel senso che... Esperienza comunque. Esperienza e ogni stagione c'è il suo tempo. Noi abbiamo colto l'attimo di quel periodo. Se avessimo acquistato probabilmente un anno prima ne avremmo comprata una in più. Quindi abbiamo strutturato tre anni vivendo a Como, sul confine svizzero, lavorando, lavorando, lavorando. Io mi sono creato un secondo lavoretto del weekend. Ica si è creata anche lei un secondo lavoro, mentre ha finito la scuola. E quindi abbiamo cominciato a mettere da parte. Mi ricordo quando ho smesso di fumare, fumavo un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno, ho detto guarda io a Fuerteventura non vado giù come fumatore perché le sigarette costano ai tempi una stecca 18 euro. Quindi cosa abbiamo fatto? Strutturiamo, mettiamo da parte, cerchiamo di venire giù, ci rendiamo conto perché a quei tempi le case costavano certe zone 17-18 mila euro. E non è una battuta. Quindi avevamo magari da parte questa cifra, veniamo giù in vacanza perché comunque non ci lanciamo così, anche se conoscevamo la zona. Veniamo giù e questa casa da 18 mila alla fine ne costa 30. Ok, non abbiamo abbastanza soldi per venire giù, quindi cosa facciamo? Aspettiamo ancora un po'. Metti da parte altri soldi, torna giù dopo sei mesi. La stessa casa è in vendita a 50. Più che doppiato al netto delle tasse rispetto a sei mesi prima. Ok, aspetta un attimo. Cioè non c'è mai successo di cambiare meta in realtà. Abbiamo sempre pensato di venire qui solo del lavoriamo di più. Quindi più ore in Italia, più sacrifici, smettere di uscire con gli amici, anzi ricordo le grigliate. Noi praticamente offrivamo lo spazio ai nostri amici e loro portavano la carne, portavano da bere e stavamo assieme in amicizia in questo modo. Noi davvero mettevamo da parte tutto. Successo che al 27 di aprile del 2017 abbiamo detto ragazzi sì o sì noi saremo a Fuerteventura. Oramai i prezzi erano folli, case che noi avremmo magari comprato a 20.000 euro oramai erano arrivate a prezzi spropositati oltre i 100.000 ed era successo che zone come quella in cui siamo oggi ormai era fuori mercato per noi. Ecco che quindi la classica casa vacanze di Coralejo non era alla portata di due ragazzi che facevano poco più che 40 anni assieme. Quindi abbiamo scelto e in un certo senso anche ripiegato su Puerto del Rosario. Puerto del Rosario è la capitale dell'isola sconosciuta e più. Inizialmente era Betancuria nell'entroterra. È un posto che sicuramente va visitato perché è uno dei posti più belli di Spagna. È stato davvero scelto come uno dei posti dei paeselli più belli di Spagna. Credo che abbia poco più di 200 abitanti attualmente. E' un borghetto quindi. Esattamente è molto molto carino è una delle zone più verdi dell'isola dove attualmente ancora viene coltivata la patata, le carote, i tuberi in generale, grano. Cercano di fare comunque un po' di materia prima e mantenere un po' anche quello che è il settore primario. Che mi dicevi l'altro giorno prima che facessero il dissalatore andavano avanti solo di latte di capra. E insomma diciamo che era davvero così perché nessuna fonte di acqua dell'isola è acqua completamente dolce. Quindi abbiamo sempre delle piccole quantità di sale che non ci rendono possibile berla. Quindi quali animali possono bere acqua salmastra? I felini e le capre. Se ricordate le capre leccano sempre il pezzo di sale. Ecco e quindi la capra è stata sia per quanto riguarda la possibilità di bere, la possibilità di mangiare l'elemento cardine vitale di quest'isola fino praticamente 50 anni fa. Poi piano piano dai primi anni 70 è partito il turismo. L'aeroporto è cambiato da Los Estancos che oramai è una zona sconosciuta da tutti. È diventato il nuovo aeroporto di Fuerteventura che si trova tra Costa d'Antigua e Puerto del Rosario. Che si chiama Foué, che è l'unico aeroporto dell'isola. E soprattutto dobbiamo aprire e chiudere una parentesi. Non siamo alle Baleari. Questo è comunque una cosa da dire sempre a tutti. Siamo a fianco al Marocco. Tante volte, oltre ad essere a fianco al Marocco, però tante volte Fuerteventura viene scambiata per forma intera. È tutto un altro mondo, tutto un altro stile di vita. E siamo a oltre 2000 km di distanza. Cioè, scambiarci con le Baleari è come davvero scambiare Trapani con Arese. Cioè, non ha davvero alcun nesso. L'altro giorno ho fatto tutta la costa partendo dal centro di Corralejo fino al Parco Naturale. Come sono passato qua davanti? È chiaro. Da qui riusciamo davvero a vedere la maestosità di Corralejo che è davvero la capitale del nord. Come diciamo sempre all'interno dei nostri video sul canale Nico Ica, quello che caratterizza Corralejo è che c'è proprio un tipo di clientela che è fatta per qua. Cioè, solitamente chi vive a Corralejo da tanti anni vede Corralejo come la capitale, come l'unico posto vivibile di Fuerteventura. Al contrario, chi vive al di fuori di Corralejo, ad esempio io, che all'inizio per necessità l'ho dovuto fare, vede Corralejo forse un po' troppo differente da quella che è la natura. Gli spagnoli lo odiano, mi hai detto l'altro giorno. Diciamo che la maggior parte delle persone che sono nate qua non amano proprio quello che è diventato Corralejo, come non amano il modo di fare di tanti italiani. Siamo un po' arroganti tante volte e ci impuntiamo in un posto che dovremmo ricordarci sempre che non è il nostro. Quello che stiamo vedendo adesso in lontananza è Lanzarote. Lanzarote, nonostante sia 20 minuti di barca da Fuerteventura, ogni mezz'ora c'è una nave che o è l'Armas o la Fred Olsen che portano, poi ci sono anche le private, a Lanzarote. È comunque un mondo completamente differente. È un'isola più piccola, è un'isola più ricca per certi versi, sicuramente più tutelata per certe cose. Ad esempio Lanzarote è una cosa bellissima, le case hanno tutte lo stesso colore, le finestre e le persiane possono avere solo determinati colori, mentre qui un po', come appunto si dice in Spagna, un po' una barbarità, perché puoi vedere che fanno tutti un po' i colori che vogliono. Giallo, arancione, fucsia. E questa è una delle tante scelte che Lanzarote ha fatto nei confronti di Fuerte. Ha un mercato turistico differente e ha anche dei costi tante volte differenti a quelli che sono appunto. Più alti o più bassi? Per certi versi possono essere più alti, diciamo che una media dei costi rispetto all'isola di Fuerteventura, attualmente nel 2021, possono essere più alti. Se invece dobbiamo andare a prendere macro zone come Playa Blanca, che è il sud, quello che vediamo da qua praticamente, possiamo dire che praticamente ha quasi gli stessi prezzi di Corralejo. Le zone turistiche non possono andare oltre un tot. Lo vedremo dopo nella casa che andiamo a vedere, stiamo parlando di quasi 4.500 euro al metro quadro in piena crisi. Quindi non credo che si possa andare oltre e già credo che sia un po' eccessivo, sinceramente. Sì, che poi mi dicevi che 4.500 euro nell'entroterra riesce a prenderti quasi una casa più o meno. Esattamente, esattamente. E qui un metro quadro? Qui un metro quadro? Beh, una casa intera no. Solitamente ci sono dei tagli. Cioè, il taglio tipico della casa vacanze, che difficilmente supera le due stanze da letto ai 60 metri quadri, sono case che hanno un prezzo, quindi una fascia di prezzo. Quindi dai 30 ai 60 metri quadri, noi stiamo da un 2.000 euro al metro quadro a salire. In base a quello che è la zona, l'urbanizzazione, quindi come si dice qua, praticamente il villaggio. Ma le zone più costose, oltre a Corralejo, quali sono? Beh, abbiamo nell'entroterra la Jares, completamente ingiustificato, però anche io lo adoro, perché come ogni italiano sono stato, boh, non lo so, avrò tutta la testa un giorno, bellissimo. È il Cotiglio, che è una zona, diciamo, forse la più hippie, che rimane nel nord dell'isola costiera, quindi molto carina e su certi versi anche più cara di Corralejo, sempre molto turistica e solitamente gli italiani che vivono qua da tanti anni, che magari hanno comprato qui o che magari hanno un'attività commerciale qui, se se ne vanno, e non se ne tornano in Italia con il portafoglio rivolto al contrario, vanno al Cotiglio. Quindi vanno ad investire lì. È proprio la scelta matura dopo aver fatto il salto a Corralejo. Ma è al sud invece? Il sud è come se fosse sostanzialmente un altro paese, perché Fuerteventura, per la maggior parte dei servizi, si ferma a Caleta de Fuste. Sotto a Caleta de Fuste cambia completamente quello che è il mercato turistico, il mercato residenziale, che è prettamente costituito da due tipi di persone, nativi oppure persone che si sono trasferite giù perché lavorano dentro uno dei tanti hotel, tre, quattro stelle che ci sono. Le case che stiamo guardando in questo momento sono delle case in prima linea al mare, come puoi vedere siamo praticamente sulla spiaggia. Sì, siamo attaccati. Adesso c'è una bassa marea perché in realtà il mare arriva fino a questo punto e voglio farti anche vedere che tante volte la gente cerca la playa Popcorn nell'entroterra, invece in realtà basta venire qui perché si trovano tranquillamente questo corallo che assolutamente non va portato via, è vietatissimo. Questo qui non è altro che alga fossilizzata. Ed è una delle tante cose carine di Fuerteventura. Si può venire tranquillamente qua sul passeo marittimo, farsi una passeggiata e insomma poter fare qualche fotografia. tante volte sai va bene su Instagram fare le storie con questo bellissimo Popcorn. Ma è una casa tipo questa fronte mare? Questa qui fronte mare in prima linea al mare. Possiamo partire circa oggigiorno su un due stanze da letto intorno al mezzo milione a salire. Due stanze da letto vuol dire 80 metri quadrati? Sì, dai, bene o male possiamo auspicare anche una metratura abbondante come questa perché per questa zona è abbondante. Si cerca appunto di stare su qualcosa di più piccolino, come dicevo poc'anzi fino ai 60 metri quadri non ha una molta logica di prezzo al metro quadro perché a Fuerteventura si è deciso di fare un cartello. Probabilmente non si è neanche deciso. Si è creato un cartello fatto di tutti i venditori e i proprietari degli immobili tipo Coralejo sotto i 70 mila euro sostanzialmente non si trova nulla. Ma nulla significa che se trovi qualcosa il più delle volte o perché te l'ha consigliato la zia che vive qua da 40 anni o perché è di qualcuno in cui tu sei stato in affitto tanti mesi oppure perché ha problemi o strutturali o proprio a livello tante volte di comunità oppure di documenti stessi. Quindi ci sono tantissimi magazzini che sono diventati a uso abitativo ma manca la sedula di abitabilità quindi manca l'abitabilità e quindi tanta gente campa in case che non sono di fatto vivibili. E se tu non hai una casa vivibile sostanzialmente non puoi fare l'impadronamento. L'impadronamento è il censimento in comune. Quando tu ti trasferisci in un paese che non è l'Italia devi censirti, devi fare una residenza. Non parliamo di domicilio ricchi. Quindi il domicilio fiscale può rimanerti a Dubai come ti trovi bene tu adesso. Ma se tu vuoi vivere qui al di là della vacanzina in casa vacanze che hai fatto ora avrai chiaramente necessità di avere un appoggio di una residenza con un impadronamento ovvero vado in comune, compilo un modello in cui io dichiaro di essere in affitto in questa casa con un contratto di affitto regolare. Tante volte il contratto di affitto regolare o non può essere fatto per il motivo che ho menzionato poc'anzi oppure perché il proprietario non vuole pagare la parte di tassazione che è molto simile a quella italiana che siamo intorno al 20%. Quindi c'è ancora un sottobosco dove tu mi dicevi prima che qui siamo in 122.000 residenti quando in realtà c'è molta più gente. In realtà sì, si stima che ci siano molte più persone di quelle che in realtà sono le censite. Che sono quante più o meno? 122.000? 122.000. Nel 2020 erano 122.000. In tutta l'isola. Ma bisogna tenere conto che solo 40.000 persone vivono nella capitale, Puerto del Rosario. Altro motivo del perché secondo me qualcuno che vuole venire a Fuerteventura deve per forza conoscere la capitale perché ha un terzo degli abitanti. Ma e lì non si fa turismo? Lì ci sono i residenti? Beh, io ci ho provato a far turismo e devo dire anche con discreti risultati. Se devo tener conto quello che è stato il prezzo di acquisto, il prezzo poi di messa a reddito e anche i servizi che io riuscivo a dare all'interno di un prezzo sostanzialmente basso, specialmente paragonato a quello italiano, perché tante volte è anche un terzo rispetto a quello italiano, comunque pagando le tasse facevo come professionista in regola, io devo dire che ho avuto ottimi risultati, ottimi riscontri. Se proporzionato ad appartamenti magari di 70 metri quadri, mi piacerebbe portarti oggi nel nostro appartamento ma dentro il cliente. 70 metri quadri qui dove magari sono in una zona migliore, per l'amor del cielo, perché comunque è una zona migliore rispetto a tante altre zone dell'isola dove ad esempio a suo tempo abbiamo comprato noi, ma se tu non prometti l'impromettibile al cliente e gli spieghi che stai andando in vacanza nella capitale, per questo, questo, questo motivo, la centralità, il costo più basso, in generale tutti i servizi costano meno, anche magari la benzina costa meno, sembra una stupidata, però sono queste le cose che tante volte fanno la differenza, specialmente in una vacanza in cui fai 2000 km. E Corraleco quanti abitanti fa? Corraleco sai che non so darti il dato di preciso in questo momento, ma tanti, tanti significa che almeno ci sono qui un 7-8 mila italiani fissi e bisogna tenere conto che almeno, almeno, almeno altri 3 mila vivono qui o con documenti un po' farlocchi e quindi non risultano censiti o differentemente sono proprio in vacanza, quindi è il classico smart worker Ma arriva a 30-40 mila persone? Non lo so, ti penso, penso che una grande fetta, se prendiamo anche le altre zone di Corraleco, quindi non solo la città vecchia, ma anche il Gea Fond, che è la parte alta di Corraleco, che è molto residenziale e anche molto più recente rispetto alla città vecchia, Tamaragua, quindi tutte quelle zone che magari noi facciamo sempre vedere all'interno dei video, probabilmente potremmo raggiungere una cifra molto simile alla tua. Ma e qui nell'isola quali sono le attività principali? Allora, l'attività principale dell'isola per chi vive qua è servizi, quindi è settore terziario, settore manifatturiero gran poco, c'è dell'artigianato che cercano di far partire tante volte con aiuti proprio interni, non solo aiuti dal governo canario, che tante volte prende sovvenzioni dall'Eurozona, ma quello che è anche l'aiuto del cabildo di Fuerteventura. Fuerteventura va vista, come ogni isola dell'arcipelago canario, va vista come un piccolo stato dove c'è il suo piccolo governo, capeggiato da un grande governo che è quello che gestisce l'arcipelago, ma c'è sempre poi il governo di Moncloa, sua Madrid, dove dicono a bello mio, però comandiamo noi da qua. Quindi c'è una capacità di poter cambiare un pochino le leggi, ma chiaramente rimaniamo sempre sotto mamma Spagna, quindi come forma di tutela è anche un altro valore aggiunto del perché poi la gente finisce qui e non finisce altrove, ad esempio nelle coste marocchine che distano a pochi chilometri da noi, però è un altro continente, non dimentichiamocelo. Uno penserà che le case qua a Fuerteventura a questa cifra siano a più 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 più, classificazione energetica incredibile, tripli vetri, antisfondamento, assolutamente no, è quasi tutto costruito in classe G, tutt'oggi c'è ancora possibilità di costruire in classe G e questa quindi è una cosa che mi lascia un po' basito perché nei paesi del primo mondo, perché qua va considerato primo mondo, dovrebbe praticamente essere vietato e invece qua ancora c'è la possibilità di fare la casa con il bolognino, un po' come nelle mie zone e nelle tue zone si costruivano i granai, i granai quindi dove ci andavano dentro poi gli animali, quindi è il classico bolognino di cemento, tra l'altro prodotto con il picon, il picon è questa granaglia che viene mischiata poi al cemento e viene giù tutto. E non è che viene giù tutto, a livello di forza tiene molto bene, ma è una spugna incredibile e rilascia tantissimo sale. Ecco, questo è il bolognino tipico di Fuerteventura. Il 100% delle case dell'isola è costruito in questo modo, di tanto in tanto si vede qualche casa fatto con il classico mattone arancione italiano, ma sono davvero poche e sta iniziando ora. E' questo bolognino, ci sono di varie dimensioni, si parte da questo qua del 6, del 9 fino al 25 e si costruisce così. Questo che sia di 5 piani, che sia di un piano solo e come dicevo, il picon attira tantissimo l'umidità. Noi andiamo a mettere adesso delle piastrelle fino a un metro di altezza, risolviamo per dieci anni e poi dopo l'undicesimo ci ritroviamo l'umidità a un metro e cinquanta. Una cosa bellissima è utilizzare la roccia macorera e si va a creare questo bellissimo muro. Questo è un muro 100% di roccia, sono muri a secco, anche se c'è del cemento, e possono comunque costare anche 150 euro al metro fare lavori di questo livello. Quindi è un artigianato, perché io lo considero artigianato questo. Ok, guardate che capacità di lavorazione della pietra incredibile. Come vedete con questa casa qui, che questa è recente, si può giocare con i colori, perché comunque è un'isola vulcanica, molto bella. Una casa come questa qua possiamo anche spingerci verso il milione di euro oggi. Crisi o non crisi? Chi ha i soldi per comprare questi tipi di case non ha problemi di odice al covid o domani non c'è più. Ecco perché il mercato di queste isole tante volte non rispeccia quello che è la realtà. Siamo comunque a Corraleco fronte mare. Esattamente. Questa è una casa che si può tranquillamente affittare a 250 euro al giorno. Tenete conto che comunque in un periodo che va da un giorno a 365 giorni noi abbiamo 300 giorni di luce così. Abbiamo più di 300 giorni all'anno in cui si può andare al mare e fare il bagno. È bello ricordare l'isola come un piccolo spicchio d'Africa che ci regala tutti i punti di forza del continente africano, del Marocco, ma al contempo ci mitiga perché comunque sono le 10 del mattino ci sono già 30 gradi ma è anche vero che siamo nel periodo più caldo dell'anno settembre, ottobre e novembre ovvero gli italiani ma specialmente i nordici quindi anche da dove arrivi tu prendono, finiscono le ferie se ne ritornano a casa e dove vanno in vacanza qua perché costa un terzo perché tante volte perché comunque il clima è comunque quello di luglio perché è estivo questo anche a dicembre a dicembre diventa un pochino più mitigato si raffresca un po' il mare è oceno atlantico quindi la temperatura del mare difficilmente supera i 24 gradi oggi è il momento più caldo dell'anno in cui settembre ottobre si scalda così e poi il resto dell'anno scende fino ad arrivare a 18 gradi comunque è fattibile diciamo che una volta che una persona si abitua può tranquillamente fare il bagno qua senza nessun problema poi qui si arriva solo con la carta d'identità perché siamo in Spagna chiaramente quindi abbiamo tantissime persone che non hanno il passaporto per un milione di motivi poi legato a quello che è la crisi del covid la Spagna è sempre stata molto libertina attualmente non è ancora obbligatorio il green pass per chi è qua ovvero ci sono tantissime persone che non sono vaccinate nonostante comunque noi lo siamo che hanno scelto di venire in queste zone appunto dell'Europa perché attualmente ancora non è obbligatorio ovvero uno deve venire qui con un tampone negativo o con una seconda vaccinazione fatta da almeno 14 giorni ma una volta che è qui quindi il green pass provvisorio del Novax che dura 48 ore può tranquillamente vivere la vita come una persona normale come un vaccinato senza nessun limite cosa che in Italia in questo momento sta creando anche parecchie discussioni detto da uno che si è vaccinato voglio dire quindi è anche un discorso di tanti tipi si è un discorso logistico questo indipendentemente dal filone di pensiero esattamente si si io lo sto facendo puramente a scopo logistico e anche del perché giustificare il perché la gente poi vada a scegliere un posto come questo ha discapito di altri tutto quel movimento del freelancer nomade digitale cioè io sono qui da una settimana l'ho visto ma non l'ho visto cioè siamo ancora molto indietro secondo me da quel punto di vista ci sono delle vie in cui è garantita una buona connessione internet specialmente sono le zone quelle più turistiche ci sono delle zone del sud dove appunto stavamo dicendo prima è ancora estremamente indietro Fuerteventura si parla di una copertura 5G entro il 2021 in gran parte dell'isola io direi grazie se già ci mettete la fibra in tutta l'isola perché prima di andare a lanciarci su progetti che magari sono un po' troppo facciamo prima questo quindi noi abbiamo un problema di base che è quello della connessione tantissimi smart workers hanno bisogno di una connessione stabile non veloce in secondo luogo cosa abbiamo di problema abbiamo che tanta gente ancora non conosce questa meta e se la conosce la conosce perché ci è andato l'amico il parente lo youtuber che seguo come succede oggi con te ed è così che poi scopre l'isola perché tantissimi ed è davvero non è una questione di ignoranza ma è una questione proprio di un posto che la gente non ha mai preventivato nella propria vita la gente pensa che sia sempre extra UE un sacco di problemi a livello documentale come abbiamo detto prima e alla fine non viene quindi diciamo che come appunto stai notando tu Ricky ci sono tantissime persone che sono Piemonte Lombardia Veneto Toscana e Lazio perché? perché sono le regioni da cui ci sono stati più voli aerei diretti per Fuerte Aventura io ho pagato 10 euro per venire qua di voi incredibile credo che ti sia costato di più prendere i mezzi per arrivare all'aeroporto esatto che venire qua un altro punto a favore dell'essere residente fiscale qua degli sconti particolari come dato che tu vivi in zona disagiata io Spagna ti garantisco degli sconti ovvero pago per te gli spostamenti parte dei tuoi spostamenti quindi noi abbiamo uno sconto unitario pari al 75% sui biglietti aerei nazionali io posso andare dove voglio da qua alla penisola dalla penisola a qua senza alcun problema pagando 75% in meno posso fare un volo da Fuerte Aventura a Madrid pagarlo 2 euro come mi è successo spesso e volentieri in 2 ore 40 si è a Madrid e poi si prende un volo da Madrid a Bergamo dove tutti i giorni c'è un volo diretto per Bergamo o per una qualsiasi altra meta aeroportuale italiana quindi siamo super ben posizionati qui siamo sempre in prima linea al mare e vediamo uno dei tanti problemi di questa isola l'abbandono perché persone che conoscono Fuerte Aventura che stanno guardando questo video diranno ah ecco abbiamo trovato il tipico Bauscia di Milano che ci deve vendere per forza il prodotto dell'isola quello che è bello di qua ma quanto è bella la Sardegna beh chiaro chi fa questo ragionamento ovvio che non può andare a capire a tutto tondo quello che è qua perché è un altro mondo ma bisogna parlare anche del punto negativo e siamo qua anche per questo abbiamo degli edifici che sono completamente abbandonati sì e questo è fronte mare questa è in prima linea al mare è un complesso immenso per certi versi è anche dimora di tantissimi senza tetto che qui si chiamano mi dicevi prima occupas sono occupas ma non solo gli occupati sono quelli che occupano le case solitamente questi sono invece persone che hanno perso il lavoro oppure sono rimaste comunque sole ma e come mai c'è questo degrado così vicino comunque al mare in una posizione bellissima tra l'altro siamo un chilometro e mezzo dal centri corale esattamente allora perché il motivo numero uno tante volte è che l'azienda che ha costruito questo complesso lo ha fatto in un'epoca storica in cui si dava credito a tutti ovvero noi ci presentavamo in banca con una classica busta paga da operaio e chiedevamo un mutuo per 100.000 euro e magari ci venivano dati 120-130.000 euro con questi soldi noi facevamo un mutuo non solo al 100% ma al 120 al 130% e riuscivamo poi a comprarci la casa comprarci i mobili pagarci le tasse che comunque sono più o meno un 7-8% poi andremo a discutere dividendo quelli che sono tutti splittando tutti i costi e magari si comprava pure la macchina nuova arriva la crisi bolle immobiliare la burbuca immobiliaria del 2008 la gente perde lavoro crisi spread tassi variabili alla follia le case costavano molto di più di oggi quindi non era le persone che hanno comprato casa 40.000 ma sono persone che hanno comprato a 2.300 euro al metro quadro a Puerto del Rosario quindi parliamo di persone che adesso costano 1.200 si riesce tranquillamente a trovare case a 1.200 1.300 nella capitale nella capitale settimana scorsa abbiamo venduto una casa in Caglia Dulcinea che è comunque una via completamente residenziale 62 metri quadri in scrittura a 68.500 euro come ti dicevo prima il difficile è l'accesso qua adesso si riescono a trovare ville a 150.000 euro il difficile è l'accesso il gradino d'entrata sono finiti quegli anni dove compri a 20 25 30.000 troviamo ancora qualcosa sì ma cosa in che zona abbiamo dei punti abbandonati da dio che sono chiaramente in un momento di transazione perché tutta l'isola si riprenderà chi compra oggi a Fuerteventura a meno che si faccia seguire davvero da uno scellerato perlomeno uno paga l'altro nel senso che oggi lo vai a comprare lo usi per quel cavolo che ti pare domani lo vai a rivendere a quello che l'hai pagato molto probabilmente ci stai andando a guadagnare perché l'immobile prenderà valore tutto il tempo che tu lo hai avuto in possessione perché perché non si costruisce più nulla perché non ci sono terreni edificabili e se ci sono le concessioni edilizie per poter costruire possono tardare anche un anno e mezzo due anni e quindi la gente non è sfronata a costruire oggi compriamo un terreno edificabile urbano con un coefficiente di edificabilità del 25% la classica parcella di terreno nell'entroterra mille metri quadri 250 metri quadri di edificabilità noi facciamo licenza e progetto la richiediamo magari passa un anno e mezzo e noi non abbiamo ancora licenza e progetto questo è tutto discapito della voglia di costruire e quindi cosa succede che si vanno a riprendere questi complessi come dicevo prima o perché adesso questi complessi dopo tutto il credito debito immagino siano delle banche sono stati sono stati riassorbiti dall'istituto di credito oppure c'è ancora una proprietà succede spesso e volentieri che ci siano dei proprietari come nell'altro complesso che vediamo qua dietro che è esattamente quello al Baia Real un 5 stelle lusso pensa che è brutto avere questo complesso qua da oltre 10 anni fermo ubicato in questo modo che ci dice benvenuti a Corraleco questa è la strada con cui si arriva a Corraleco e hai tre immobili che sono lasciati lì a se stessi voglio svelarvi un segreto è stato dato il via settimana scorsa siamo a metà settembre 2021 alla ripresa di questo complesso e quindi finalmente avremo un ingresso nella cittadina ecco più famosa dagli italiani perlomeno un buon benvenuto e non più questo abbandono tante volte cosa succede che si prendeva un terreno che ancora non era edificabile quindi un suelo rustico si comprava si mettevano giù due o tre mattoni e poi io andavo a richiedere la licenza per poter costruire e cavolo guarda ho costruito qua se tu me lo fai finire io ti garantisco che 200 abitanti del tuo comune avranno un lavoro cioè tu immagina in un'ottica in cui Corraleco non c'era niente un terreno qui nel 99 98-99 costava all'incirca 10 milioni di lire magari non di queste dimensioni ma un 2 o 3 mila metri quadri 2 o 3 mila metri quadri per 5 mila euro eh fatti i conti esattamente è vero era un'altra epoca la lira c'è stato comunque un caro vita che è cambiato quindi dobbiamo gonfiare un pochino però oggi si può tranquillamente vendere un appartamento di 30 metri quadri in questa zona anche a 4 mila euro al metro quindi fare 120 mila euro su un appartamento di 30 metri quadri e tu però su 2 mila metri quadri quanti appartamenti costruivi? eh sì allora la lingua ufficiale è il castellano voi sapete che in Spagna c'è il castellano e c'è il catalano la lingua ufficiale è il castellano quindi si parla uno spagnolo pochino modificato nel livello della parlata c'è qualche slang un pochino differente qualche parola che cambia ma sostanzialmente abbiamo lo spagnolo come prima lingua teoricamente c'è sempre qualcuno che sa anche un po' l'inglese ma nella pratica succede spesso e volentieri che ci si trovi davvero come bambini a non riuscirsi a capire e quindi a muoversi a gesti è abbastanza consuetudine ottimo però vabbè diciamo che la nuova generazione i nuovi macoreros sono molto più internazionali gli isolani sono macoreros sono i macoreros e noi cosa siamo? Ghiris Ghiris ok noi siamo i Ghiris siamo un po' come i gringos però siamo Ghiris non bisogna essere figlio di genitori macoreri per essere macorero quindi tu hai figli macoreri i miei figli io ho due bambini che sono nati a Fuerteventura per chi si stesse chiedendo la sanità qua come funziona praticamente io gli devo dare da 1 a 10 9 punti perché mi trovo da Dio mia moglie ha partorito qua già due bambini come dicevano è uno di due anni e uno di due mesi quindi tu sei gringos padre di macoreri io sono un Ghiri con due figli macoreri sì con due figli macoreros c'è tanto razzismo ma non è tanto una questione di razzismo perché non te lo fanno vivere come razzista ma te lo fanno vivere come proprio una classificazione differente di quello che tu sei loro proprio te lo mettono giù in questo modo e tu lo vedi non tanto nel modo di parlare perché sono sempre molto cordiali specialmente quando tu necessiti di un loro servizio e quindi loro sono lusingati che tu non vada da un tuo connazionale ma che vada da loro per un lavoro o per un servizio lo sono al momento di magari farti un favore è difficile entrare nelle grazie di un macorero quando ci entri ti danno tutto questo se ti ricorda qualcosa che ti ricorda da due polentoni quali siamo il sud Italia quindi dove è molto più difficile entrare nelle grazie di un meridionale ma una volta che ci entri sei in casa sei in famiglia questo ti apre le porte ti apre le porte del paradiso perché? perché il mercato partiamo di quello immobiliare che poi è un po' il mio campo ha più costi per lo stesso prodotto se sei turista hai un costo se sei residente Ghiri ha un costo e questo è buono saperlo se sei nativo è un altro tante volte così non sempre quando alcuni immobili vengono poi spiattellati sul mercato generale quindi le classiche applicazioni piattaforme come Idealista Pisos.com chiaramente poi si va ad allineare al prezzo di mercato non troverai mai a Coralejo un 1000 euro al metro quadro come non troverai mai a Betancuria un 5000 euro al metro quadro invece una volta che entri nelle grazie non sempre ti va bene perché comunque anche loro hanno imparato da due italiani a essere furbetti sanno che l'italiano porta giù il soldo però possiamo al contempo creare degli ottimi rapporti che non sono solo economici perché è anche molto triste dire che finire tutto limitare tutto a livello economico di business ma si creano dei rapporti dove si riesce a vivere sull'isola molto meglio allora vorrei farti vedere questo complesso è il primo complesso che noi troviamo quando entriamo a Coralejo che diciamo non è abbandonato che sono gli appartamentos San Valentin qui c'è stato anche un tuo collega di youtube in vacanza ah Marcello esattamente che vorrei salutare e questo complesso qua è proprio il complesso incriminato di cui ti parlavo prima appartamenti in vendita 18.000 euro neanche 10 anni fa quindi cosa stiamo dicendo stiamo dicendo che oggi lì dentro ci sono appartamenti da 105 110.000 quindi immaginatevi chi ha speso questa cifra a suo tempo e voi direte capito Nico però ci siamo svegliati troppo tardi perché quando costavano 18.000 il complesso non era così il complesso era in una situazione che era molto differente da quella di adesso si parla di malavita si parla di persone che avevano occupato gli appartamenti piscine vuote con mosaici distrutti tra l'altro il complesso ha due piscine è molto bello oggi è un complesso di qualità però parliamo di piccolissimi appartamenti chiaramente oggi costano l'Iro di Dio e quindi questo cosa fa legge di domanda e offerta quando si sente magari qualcuno lamentarsi del capito Fuerteventura i prezzi non valgono quello che sono perché cinque anni fa questa casa costava un terzo è lì proprio che ci si sbaglia perché perché si parla di Fuerteventura dal 2011 2012 quindi storicamente noi italiani abbiamo una memoria molto corta quindi noi possiamo prendere una frustata anche dal nostro miglior amico e dopo dieci minuti essercene dimenticati dal 2011 a oggi c'è stato un tipo di mercato che è stato dalla recessione alla ripresa al 2017 a un poi una piccola recessione stabilizzandosi poi prima del covid che è poi successo qualche successo che cosa è il passato di quest'isola perché è dal passato che noi andiamo poi ad imparare e a prevedere in un certo senso quello che sarà il futuro i prezzi di quel tempo prima nella crisi del 2008 si fa sempre questa battuta del la persona che camminava per strada che andava a zonzo la fermava e gli dicono sai prendere una carriola sai impugnarla sai aprire un sacco di cemento e buttarlo dentro bene sei assunto così si assumeva la gente perché c'era un boom edilizio incredibile e c'erano poche persone per la domanda di lavoro che c'era ma certo ma certo nel 2002 c'erano 60.000 abitanti ragazzi meno della metà di oggi nel 2002 ed eravamo ancora in un momento di boom edilizio questi complessi qua venivano costruiti dall'oggi al domani torniamo al discorso della classe G torniamo al discorso del casa costruita senza vespaio gettata di cemento e si parte con i bolognini si fa il primo piano abbiamo i primi piani i secondi piani imbarcati perché non avevano neanche il tempo di far aspettare che si asciugasse la soletta sai i canonici 40 giorni di attesa ecco e direttamente si costruiva chiaro non è successo in tutti i complessi ma quando si voleva giocare al risparmio o costruire a livello multinazionale hamburger capito ne faccio papapapapapapa non sto a guardare tanto la qualità sto a guardare il numero era il periodo storico delle multiproprietà c'erano queste mega società che magari avevano qua un contatto e vendevano a distanza porzioni di immobile quindi un appartamento da 150 mila euro inarrivabile e più poi comunque qua non c'era servizio non c'era niente ma io andavo qua a fare la spesa cinque anni fa ragazzi c'erano quattro pomodori due banane quello che c'era c'era di frutta e verdura magari coralejo no ma tu andavi già un leggermente fuori da coralejo la cares al cotillo era così e comunque zona turistica cioè cambiato da così a così in cinque anni ma tu pensi che nei prossimi vent'anni la popolazione residente possa raddoppiare nuovamente allora raddoppiare no c'è uno studio fatto dal governo delle isole canarie quindi va al di là al di sopra nel governo di fuertaventura che porta l'isola a quasi 150 mila abitanti entro il 2030 che vuol dire un 15 20 per cento in più che vuol dire avere molta più gente e soprattutto andare a diminuire drasticamente quello che è l'autoctono andremo ad avere una parità a essere a pareggio con loro quindi un po quello che sta succedendo con malta dove ci sono quasi più stranieri che maltesi questo non è visto di buon occhio dai residenti dai nativi anche dei residenti tante volte perché una volta che tu ti trasferisci qui ti senti davvero parte integrante di quello che è questo mondo e sono tantissime persone sempre di più a voler limitare un po questa crescita che l'isola sta avendo il covid si pensava io per primo che andasse a distruggere quel poco che si era costruito negli ultimi anni ripeto avevamo raggiunto l'apice nel 2017 stabilizzandoci nel 18 19 la maggior parte dei turisti che vengono qua negli ultimi anni sono quelli che andavano in tunisia sono quelli che andavano in egitto quando la c'è un attentato noi abbiamo un'ondata del 20 30 per cento in più di turisti perché è una realtà quando la ricominciano ad abbassare i prezzi e tutto va bene l'italiano si dimentica della pericolosità di quelle zone si dimentica che tante volte rimane chiuso dentro l'hotel tutta la vacanza non vuole uscire però tanto si accontenta della vacanza molto easy nel 5 stelle seduti tranquilli e alla fine va di là e quindi noi perdiamo turismo tante volte queste isole quindi non solo Fuerteventura ma anche Tenerife Gran Canale Lanzarote vengono utilizzate un po come ripiego e questa è una cosa un po triste perché manca un buon lavoro di promozione da parte dei tour operator ma specialmente da chi qua comunque al potere dell'informazione ed ecco che poi nasciamo noi che cerchiamo nel nostro piccolo in una forma davvero infinitesimale di portare anche una conoscenza del territorio che non è solo quella delle vini che bella spiaggia in ciolas che sono gli infradito sì ma che poi il discorso che bella spiaggia io sono stato a Tenerife tre o quattro anni fa sono venuto qui ora adesso a Fuerteventura cioè le spiagge sono tutta un'altra roba un altro mondo quando vogliono sono molto più belle qui rispetto che a Tenerife allora quando l'arcipelago delle isole Canarie si promoziona utilizza le città di Tenerife per far vedere come sono strutturati e le spiagge di Fuerteventura e tu non hai visto il sud dell'isola che per certi versi è dieci volte più bello del nord infatti è altrettanto caro molto caro non dieci volte tanto ma alcune zone possono anche essere più care come Morro Cable più care di Corraleco ma chi diventa residente qua allora residenti qui le persone che si innamorano in vacanza allora di base sì pensionati molto pochi a quello che ho visto che comunque la popolazione non è giovanissima però non è non è pensionata l'età media di Fuerteventura attualmente 38 anni ed è in discesa costante quindi questo ci sta portando ad avere sempre più persone giovani e come dicevi tu smart workers che tante volte vengono qua con la parola sulla bocca sono smart worker poi nella realtà non lo sono sì però ci si arriva ci si arriva senza particolari problemi e soprattutto a livello fiscale si riescono a fare buone cose cioè dico io ora non è strutturata benissimo ovunque cioè se adesso prendo e vado a fare kitesurf al cotiglio per mezz'ora non mi va la connessione però sotto casa c'ho il baretto italiano che fa 300 mega stabile e 100 mega di upload stabile se trovo i tre o quattro punti d'appoggio poi riesco ad andare però non riesce a girare allora noi perché siamo a coralejo e siamo nella punta se invece andassimo nella capitale avremmo molti più chilometri quadrati per avere questo tipo di servizio chiaramente ognuno poi si appoggia nella zona che più preferisce chiaro che se io fossi un pensionato andrei nella capitale perché ho problemi di cuore o problemi di mal di schiena all'ostoporosi o l'ospedale generale di fuertaventura che lì nonostante coralejo abbia le sue cliniche private abbia il suo ospedalino pubblico però comunque è imparagonabile a quello che è l'ospedale generale di fuertaventura un ragazzo come te sicuramente magari andrà a finire in una zona turistica dove c'è anche un pochino più di movida la sera dove non si va ad annoiare è chiaro che è un'isola praticamente dedicata ai giovani alle giovane coppie a chi è in viaggio di nozze come i miei genitori che sono venuti nell'87 e qua non c'era niente era solo sabbia e sterpaglie piuttosto che a coppie di pensionati in salute che non vogliono troppo allontanarsi dalla capitale appunto per il servizio basico della sanità piuttosto che a ragazzi come te che hanno la voglia di farsi un'esperienza che sia all'estero ma al contempo senza passaporto a quattro ore da milano con ogni giorno un volo diretto per il nord italia perché tra malpensa e bergamo tutti i giorni c'è un volo in un posto super sicuro perché le isole canarie sono tra i primi posti come sicurezza agli ultimi posti come tasso di criminalità e questo è un pacchetto di valori aggiunti che tante volte la gente non pensa la giovane famiglia che ha anche un pochino di disponibilità economica e riesce o a comprare un immobile che solitamente è la cosa che io preferisco sempre consigliare con calma ma comunque consigliare in quanto lo vedremo fra un attimo non ha molto senso logico andare a affittare una casa per lunghi periodi perché magari andiamo ad affittare a 650-700 euro al mese un immobile da 80.000 è perché comunque qui siamo in un posto di vacanza e quindi gli affitti sono alti esattamente gli affitti sono alti la disponibilità è poca a differenza di gran canaria e tenerife dove c'è un surplus di costruito in alcune zone rispetto alla domanda Fuerteventura ha tra immobili abbandonati immobili chiusi perché la gente dice li ho comprati a suo tempo a 40-50.000 lo tengo chiuso non mi da uguale non lo voglio mettere a reddito quello che rimane è poco e se non è per i residenti e se non è per i turisti praticamente non c'è nulla e quindi quel poco che rimane a prezzi alti tu non hai molta alternativa di andare a vivere in una casa piuttosto che un'altra la ricerca di un affitto qua è un lavoro ed ecco che poi tante volte la gente mi contatta e dice nico guarda salvami tu che hai tante case da propormi ho capito però che requisiti hai anche perché non dimentichiamo c'è anche questa grande piaga agli occhi del proprietario di casa che compra qua come investitore poi magari neanche vive qui o la grossa azienda che compra il blocco di appartamenti vuole avere dentro un inquilino che abbia un tot di requisiti e tante volte il requisito manca manca perché comunque chi si trasferisce dall'Italia il lavoro non ce l'ha manca perché deve venire qui e cercare qualcosa ma che lavoro c'è chi lo sa qui comunque se vieni per cercare lavoro non è consigliabile perché gli stipendi sono comunque bassi allora cercare lavoro come dipendente in un bar in un ristorante magari gli sport acquatici ho visto tantissimi ho fatto kite negli ultimi giorni ho visto tantissimi istruttori italiani che comunque non se la passano male perché io una lezione la pago 100 euro eh esatto allora il lavoro è poco e tante volte mal pagato io dico sempre che il salto ci deve dare comunque un margine di tempo per capire l'isola e per accettare anche dei lavori che magari non vanno proprio a rispecchiare quelle che sono le nostre competenze e capacità c'è gente che viene qua con delle lauree incredibili magari parla russo e a Fuerteventura è un pesce fuor d'acqua è chiaro che se io adesso ti sto giudicando cioè giudico un pesce per la sua capacità di volare chiaramente dico che è un incapace in realtà è un ottimo nuotatore quindi il concetto di base quale è il mio consiglio è venire qui aprire partita IVA e dimostrare all'isola quello che noi sappiamo fare come lo sappiamo fare quali sono le nostre tariffe e la nostra serietà tante volte quello che manca qua è la serietà ma non degli autoctoni ma della gente che qua si è trasferita e quindi questa è una cosa che ancora dà tanta possibilità a chi vuole fare un salto ancora oggi nel 2021 perché se si hanno delle competenze e se si riescono poi ad estragnare al mercato di qui quindi chiaramente serve una base di spagnolo ma questa si impara tranquillamente sul posto si riesce davvero a crearsi il piccolo spazio proprio nel mondo e questo è in realtà un vero mondo perché è un'isola nell'oceano atlantico quindi è un piccolo mondo dove si va ancora a comprare la mela in quel posto il pesce in quell'altro posto la carne in quell'altro e si crea un tessuto sociale che secondo me è ormai dimenticato quando io parlo con mia nonna che è del 40 parlo con lei di una realtà italiana che non esiste praticamente più io qua mi rispecchio in questa realtà quindi il consiglio se non si lavora con gli sport acquatici o con qualche lavoro speciale per l'isola per fare la stagione e cercare di guadagnare e mettere via soldi magari non è il posto perfetto perché un barista prende 1000 euro non è il posto perfetto non per i 1000 euro perché se una casa in affitto costasse 200 euro allora sì 1000 euro andrebbe benissimo e che costa 700 quindi bisogna andare a compartire quindi condividere con altri ragazzi che non conosciamo un affitto chiaro alle isole canari è illegale questa cosa però lo si fa lo stesso lo si fa lo stesso chi non deve venire qua? allora sicuramente non devono venire qua persone che non vogliono minimamente capire l'isola l'isola va capita a Fuerteventura o un'isola ferrosa o ti chiama o ti scaccia e quindi la maggior parte delle persone che vengono si innamorano dell'isola altre tanti dicono è un'isola brulla non c'è niente è molto più bella Gran Canaria è molto più bella la Sardegna è molto più bella la Sicilia e quindi quando già si parte con questo presupposto si parte male Fuerteventura è Fuerteventura è unica al mondo punto per quanto riguarda invece la vita qui potrebbero mancare quelli che sono i lussi all'italiana qua anche una persona che guadagna tanti soldi ma davvero tanti soldi parliamo di direttori di banca piuttosto che direttori finanziari non hanno macchine di grossa cilindrata non vanno in giro vestiti con vestiti firmati con orologi d'oro è una vita completamente differente molto più dedicata alla semplicità questo non significa che non si trovino anche qua macchine belle però comunque non è per questo stile di persona io prendo sempre in giro sta cambiando anche un po' zone come Corralejo le ragazze che vengono con due valigie da 25 kg una settimana Fuerteventura e si portano magari l'infradito in tinta col pareo in tinta con la borsetta e il tacco 12 per girare la sera ecco questo probabilmente non hai capito dove stai andando che è anche un po' bello perché c'è molto meno pregiudizio c'è molto meno pregiudizio c'è ancora gente che magari va a fare la spesa a piedi nudi magari non nelle zone di Corralejo è ancora diciamo tollerato qualche anno fa era la prassi guarda ti dico io ho vissuto a Sydney per 8 mesi quella è una metropoli però dicono a città di mare quindi giro a piedi e tantissima gente gira a piedi con la soletta alta esatto è una cosa bellissima perché comunque non è bellissimo da vedere non è bellissimo da vedere per noi che non lo facciamo io solitamente sono sempre in giro in magliettina in pantalone corto quando andiamo a Rogito dal Notaglio vado con il pantalone corto chiaramente pulito ordinato ma è una cosa che in Italia non esiste qui l'abito non fa al monaco sta cambiando un po' anche qui infatti chi adesso vuole fare il salto chiaramente sta prendendo l'ultimo treno è uno degli ultimi treni perché siamo davvero in arrivo stiamo davvero aspettando l'ultima ondata l'ultima ondata che farà un cambiamento radicale di quello che è l'attuale conformazione dell'isola societaria e immobiliare è un cambio che ci sarà dopo il covid il covid non solo non ha creato danni apparenti diciamo collaterali non ce ne sono stati ha un po' rallentato l'economia chiaro è stata una delle isole che più ha sofferto ma ha fatto conoscere l'isola a molte più persone grazie anche a youtuber come te come Marcello e tanti altri noi parliamo degli italiani ci sono con la stessa cosa i tedeschi la stessa cosa gli inglesi quindi è un'isola che sta scoppiando non è scoppiata perché non è conosciuta non perché non piace perché non è conosciuta e perché il cabildo di Fuerteventura si è svegliato negli ultimi anni a promozionare l'isola perché chiaramente ci sono delle regole dall'alto a livello di Las Palmas de Gran Canaria che gestisce tutta la parte est dell'arcipelago tra cui Fuerteventura che ha dato per 40 anni priorità alla sua isola oggi invece vuole dare o anche se non vuole comunque siamo sotto gli occhi di tutti National Geographic parla di Fuerteventura a mesi alterni è patrimonio della biosfera è patrimonio dell'UNESCO abbiamo un parque naturale che è unico al mondo i venti che passano da Fuerteventura vanno anche poi ad aiutare fino alla foresta amazzonica cioè ci sono delle storie bellissime dietro durerebbero ore è un'isola magica e chiaramente va capita per quello che è con tutti i suoi limiti perché ne ha tantissimi oggi che posso dire mi sono affermato che vivo qua che sono tranquillo che ho la mia cerchia di amicizie la mia schiera di amicizie è un piccolo mondo è come vivere in un quartiere sostanzialmente quindi se tu fai bene lo sanno tutti se tu fai male lo sanno tutti tutti sanno tutto di tutti e qui sostanzialmente c'è poco da fare e chi fa tante volte non è stimato ma è visto con malocchio e questa è una cosa che secondo me è triste perché è tutto limitato a questo quando in realtà si può fare tanto cerco invece di dire non è un'isola che è solo mojito birra 1,50 euro di scarsa qualità e tutto il giorno in spiaggia prendere il sole si può fare qualcosa qua ci sono dei contratti di lavoro pessimi c'è una tutela dei minori tante volte pessima per quanto riguarda la legalità le partite IVA è tutto gestito tante volte in mano a gente che non sa neanche quello che sta facendo avvocati che non sono avvocati commercialisti che non c'è neanche la terza media in Italia ma qua sono commercialisti cose assurde c'è molto sommerso dove c'è un mondo sommerso ci sono un sacco di persone che io voglio ed esigo portaragalla e quindi non ho bisogno di dover affondare queste persone si autofondano è un mondo che sta cambiando e io voglio far parte di questo mondo non sono non è Riccardo Zanetti Nico Ica che cambierà l'isola di quella ma io faccio parte di questo cambiamento della trasparenza della legalità dell'onestà che poi quello è un jingle che sembra davvero fatto apposta come sai la firma ti rendo questa casa quando in realtà non è così siamo in un mondo piccolo dove la gente ti ferma per strada l'hai visto durante la tua permanenza la gente ti ferma per strada ti saluta ti stringe la mano è un mini mondo non ti puoi permettere qua di cagarla come si dice in spagnolo non ti puoi permettere di farlo va bene andiamo a vedere opportunità immobiliari e grazie mille andiamo ed ora non è nemmeno finita qui perché dato che Nicolò ha un'enorme esperienza del mondo immobiliare a Fuerte abbiamo girato un secondo video sul tema quindi iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti